Nome? Francesca. Cognome? Campanella. Età? 21. Siente da cale? Bilancia. Professione? Cantante. Titolo dell'album che hai scritto? Rosa Blu. Cosa ti ha ispirato questo titolo? Il mio fiore preferito. Parliamo di Sanremo. Cosa ne pensi della vittoria di Eros Ramazzotti? L'aver partecipato ad amici comunque mi ha aiutato a diventare anche amica di Eros e quindi lo stimo molto sia come persona che come cantante. Sono contenta per lui. L'anno prossimo sarei te a vincere? Speriamo di sì. Ora che hai finito amici, come andrà a finire la relazione con Simone? Spero bene, siamo stati bene nell'ultimo anno quindi chissà cosa ci riserva al futuro. Di qualcosa ai tuoi fan. Vi ringrazio tutti per l'appoggio e l'affetto che mi avete dato e grazie, 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 grazie. Fai un urlo? Grazie a tutti.